Detenzione abusiva di armi e relativa a un munizionamento, riciclaggio e ricettazione sono i reati contestati ad un pregiudicato di Barletta. Giovanni Campese è 43 anni arrestato dalla Polizia di Stato. In particolare, a seguito di un'attività infinvestigativa, i poliziotti sono venuti a conoscenza che presso l'abitazione, il box dell'uomo, potessero essere detenuti illegalmente armi e munizioni dopo un'attenta attività di osservazione per l'inamento. Gli agenti si sono recati presso l'abitazione del 43enne al fine di effettuare una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire all'interno di un veicolo, occultata in un vano ricavato sotto il sedile, una pistola priva di matricola con caricatore rifornito con sei cartucce di cui una camerata con cane armato e pronta a fare fuoco. La perquisizione è stata quindi estesa anche al box dell'abitazione e all'interno della sera di un motociclo nero sono state rinvenute altre tre pistole di diverso modello e calibro, tutte prive di matricola, una delle quali fornita di caricatore contenente sei cartucce. All'interno del box è stato anche rinvenuto munizionamento di vario calibro, circa 300 cartucce, materiale solitamente utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione. Da accertamenti sul motociclo è stato accertato che lo stesso presentava il numero di telaio a braso ed era provento di furto. La targa applicata apparteneva ad un'altra moto ed il suo furto era stato precedentemente denunciato proprio presso il commissariato di Barletta. All'interno di un paio di scarpe era occultata la chiave di una vettura Fiat Panda che dopo alcune ricerche è stata rinvenuta a poca distanza dal luogo. Anche questa vettura è risultata compendio di furto denunciato pochi giorni prima. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato condotto presso il carcere litrani.